Ancora un episodio, un inizio di 2022 davvero molto triste per la città di Sansevero e per questo territorio. Lancio un appello al Ministro dell'Interno, al Ministro Lamorgese, di essere qui su questo territorio in Capitanata nei prossimi giorni, non solo per annunciare vicinanza e solidarietà alla nostra popolazione che in questo momento si sente lasciata sola, ma anche per annunciare delle misure concrete da attuare nelle prossime settimane per sventare quello che è un vero e proprio piano, una vera e propria strategia complessiva messa in atto dall'Associazione Mafiosa per tenere sotto scacco questa popolazione e questo territorio. Io mi aspetto che ci sia questa venuta del Ministro Lamorgese nei prossimi giorni, diversamente saremo noi ad andare a Roma, la popolazione a rivendicare un'attenzione che in questo momento crediamo di meritare.